Questo è tifoso rosso-nero, i tifosi del Milan sono rimasti a bocca aperta per questa trattativa. Ha avuto un impatto enorme su tutta la curva a sud. Ma prima di scoprire tutta questa trattativa, e soprattutto i valori, se è la prima volta qui, iscriviti al canale e lascia un mi piace. Il Milan con il suo dirigente pensa già alla prossima finestra estiva di calciomercato. Il Milan voleva ingaggiare Nicolas Jackson prima che partisse per il Chelsea, così ha chiesto ai Blues se potevano prestare uno dei loro giovani attaccanti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, via calciomercato.com, i rossoneri sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria da 35 milioni di euro prevista dal contratto di Jackson con il Villareal durante il mercato estivo. Tuttavia, un aspetto chiave del loro approccio era che volevano diffonderlo nel corso di molti anni. A quel punto è intervenuto il Chelsea, che ha pagato 37,5 milioni di euro in due anni e ha offerto di più al giocatore, superando il Milan e chiudendo la trattativa. Secondo me il Milan avrebbe dovuto rinforzare la difesa in questa finestra con alcuni giocatori per il ruolo. Nelle ultime partite abbiamo sofferto molto con il settore difensivo e non ha vacillato anche quando abbiamo aperto le gambe per la disfatta contro l'Inter. Poi, come riporta Romano nella sua rubrica quotidiana per Cote Offside, verso la fine dell'estate il Milan si è rivolto al Chelsea per un possibile prestito con diritto di riscatto per Armando Broia. La decisione del Chelsea è stata quella di mantenere il nazionale albanese e di avere lui e Nicolas Jackson, insieme in rosa in quella posizione. Cosa ne pensate? Secondo la vostra onesta opinione, il Milan avrebbe dovuto pensare alla difesa, all'attacco o ad un cervello. Lasciate qui sotto la vostra opinione, tifosi rossoneri. La vostra opinione è molto importante per il Milan. E se siete rimasti fin qui, non andate via. Guardate questi due video che compaiono qui, guardateli insieme. Tifosi rossoneri.